Salve a tutti ragazzi e bentornati nel video bonus su Attacco dei Giganti 2 quest'oggi faremo il video bonus di Attacco dei Giganti 2 Allora andiamo subito a vedere la missione Eroe senza nome, livello di difficoltà massimo I War Rose è stato nuovamente sfondato, proteggi War Sina a ogni costo Vediamo ragazzi se riuscirò a portarvi nel video un grado SS Però ne dubito perché è veramente molto impegnativo Ragazzi siamo riusciti dopo due anni Due anni di video di Attacco dei Giganti 2 è finito Una volta per tutto sul mio canale che l'avevo lasciato in metà E finalmente posso dire che ho completato la serie sul mio canale È stato veramente bello Vi ringrazio ancora per il vostro supporto che mi avete dato in questi video E quindi andiamo a fare la finale Nella finale di Attacco del Gigante Allora io posso andare di là già Sì, abbiamo visto il fatto Oh, voglio farle Non ci sia, non ci sia, non ci sia Quattro, ok, ok, ok. Quattro, ok, ok, ok. Non guarda questo. Inoltre! Spesso... Inoltre a venire il giulino! Non so rimasti accetteremo! Chiari! L'aiuto! Non è non l'aiuto, no lo so! Non è un po' enorme. Non lo so! Chessiamoci a começare a il soggetto! Non lo so. Non lo so! Non lo so! Non lo so! Quanto è che la ponte in giro, non lo so. Non lo so. Come un po' che c'è da Zeyt Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! Non posso capturarlo Noi direi Non posso capturarlo Non posso capturarlo Non posso capire Ma siamo inutile Armi, lo... L'amore del senso Non è che l'amore Prendete questo Ah! Si! Non è vero, non è vero! Mi ha scoperto! Ma ora la tua scoperta è morta! Ma che cosa? La scoperta è vero! Mi ha fatto il giusto! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Oh, no, 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 no. All right, we're five. It's a big deal. Empfei, just a little. ... ... ... ... ... ... Non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Ok, stai a continuare a seguire Ok, stai a continuare a seguire a e 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 ecco il calcio di Mark Landers fondo alla porta e e e e e se vuoi sfruttare l'altro muro e 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 che lascia il gioco e e per salvare tutti loro si sacrifica cercherà di rallentare il gigante e 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 è finita così praticamente il nostro personaggio ha significato la sua vita per salvare tutti gli altri e ragazzi il video finisce qui come sempre vi ringrazio per il vostro supporto grazie di cuore siamo abbiamo arrivati alla fine di questa storia è durata un paio di mesi come avete visto ho caricato ho cercato di mantenere la promessa di caricare un video alla settimana e il mese di dicembre ormai sicuramente in questo video in quest'ultimo video sarà la fine di dicembre e l'ultima settimana di dicembre e quindi grazie io vi auguro anche auguro di buone feste e buon anno ma magari ci sentiremo in un altro video e sto registrando adesso il video il 2 di dicembre anzi il primo di dicembre e qui troverete il video sicuramente alla fine la l'ultima settimana di dicembre e grazie grazie di tutto e noi ci vedremo con una nuova serie come sempre quando vedete questo video con questi amici e noi ci vediamo nel prossimo video ciao